Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono SmithR, eccoci qui, per il primo episodio di Dragon Ball Z Kakarot. Nel scopo episodio abbiamo fatto la conoscenza dei dei veri android di S18, quelli che conosce Trance, più il numero 16, che sembra essere anche molto potente. Nel 6 ero sono stati tutti i sconfitti molto laci in mente, vogliono cercare di corripare e salvare Goku. E per scoprire cosa accadrà con loro, passare avanti, quindi bando delle chance e che è già inizio. Let's go! Eccoci lì. Eccoci lì, eccoci l'amore di Goku. Eccoci, eccoci, eccoci. Eccoci, eccoci. Eccoci, eccoci. Ehi, eccoci. Oh, ho pensavo che ho sentito qualcuno. Krillin, è tu? Ho spero che Gohan veniva. Trunks? Devo presentare la figlia di Goku. Questo è Chi Chi. Eh? Chi chi è? Non credo che ho visto a te prima. Ehi Chi Chi, è piaci che ti senti. Ok, eccoci. Ok, eccoci. Ok, eccoci. Eccoci. Eccoci, eccoci. 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 Ah, sì, è vero. Quindi, cosa significa che ho dovuto chiamare? Oh, ragazzo. Sì, sai, tua mamma non è molto facile a parlare, a volte. Sì, è la mia volta, anche. Ah, Bulma? È, è Krillin. Krillin, sei tutto bene? Perché non mi ha detto prima? È mio figlio, mio figlio futuro, lì? Oh, sì. Perché? Cosa è? Beh, ho ho sentito da l'autorizzazione che abbiamo chiamato qualche giorno fa, da qualcuno a l'estero, nel paese. Sì, è vero. I'm not a match with the database of our products to see who it might belong to. But it didn't match anything I could find. I thought Trunks might know something about it. It's covered in moss and it looks really old. Would you mind taking a look for me? I'll send you a pic. Sì, è sicuramente la macchina di tempo che ho venuto qui. Ma come è possibile? Ho la mia macchina di tempo qui con le mie altre capsulesi. Mi pensavo che questa fosse una macchina di tempo, ma cosa sta facendo in un paese così? Do you know the exact location of the time machine? Well, not the exact location, but I do know that it's somewhere out in West District 1050. You headed there? Yes, I'd like to see it for myself. Then I'm coming too. We can meet up near the machine's location. I'd like to help you look for it too. Is that okay? Of course. Thank you. Gohan! Don't worry, Mom. We're not going anywhere dangerous. We'll be safe. No, I'm gonna have a bit of peace. Nope. No? Yeah? Sì. È che il volume se fosse tanto e buono? È. è l'humanità è stata riduzta solo a trenta di città di persone è vero è vero Trunks, è tutto qua qua, non è? è una macchina di tempo Ciao, Bulma! Hey, tutti sono qui Quindi questa è la macchina di tempo che hai parlato? Sì, è vero Qui, prendo la mia macchina di tempo Guardate, questa è la macchina di tempo che sono arrivato Come potete vedere è identica con l'altra Ma questa è sembrava che è stata qui un po' molto lungo È un po' molto lungo Questa è una macchina di tempo che mi preoccupa Che arrivano qui un anno prima che ho fatto Cosa sta succedendo? Cosa è arrivata? Cosa è arrivata? Questa è una macchina Cosa è una macchina di tempo? È una macchina di tempo? Cosa è una macchina di tempo Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Una città che era vicino al exoskeleton, era ottenuto un sentimento di Trunks e Krillin che hanno fatto la città per la città, per investigare. Con capire del risultato avanti, Kami accettò il suo fate e preparò per fare l'ultimo sacrificio. Il sembra che il mio tempo è venuto, il tempo per me dare la mia assistenza come un guerriere invece di un guardia. Cosa la Terra necessita non è un occhio guardante di above, ma un nuovo potente nuovo difendore. Poi, a stesso tempo, Piccolo, pieno di un sentimento più grande di determinazione, dopo la combina con gli androidi, ha fatto il suo lavoro all'interno di Kami. Il sentimento più grande di bio androide del futuro. Non mi credo che in realtà sarei a vedere questo vecchio prun. E ovviamente, sia Supremo che Piccolo, di conoscenere questo pedicolo, dicevo di unirsi, di diventare unirsi al corso. Però io non questo perché, le spariscono, lui non muore, lui solo si unisce alla sua... No, 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 non volevo andare giù. No. Ecco. Non questo perché, le spariscono, le spalle del drago, se si uniscono insieme a tutti e due, cioè... Certo, vediamo qui le altre foto del passato. Penso che Koko si allena. Il cavolo è aperto che non riesca a prendere la conoscenza, invece ha truffato il mondo di Koko per l'acqua. Ok. Koko inizia. Il vecchio giropaio, mi sembra. Non c'è bene quello del quadriero. Koko ragione il santore di Dio per cercare di riportare in vita a Shenron, ma viene fermato da Mr. Poco, detto di Dio. Koko rimane scioccato da scoprire che Dio era copersato del Granemago Piccolo. Che Granemago Piccolo fu quello che distrosse appunto Shenron, il paradì piccolo in persona. Che razza come si chiamava nell'anime giapponese? Eh... Boh, non mi ricordo di nuovo. Comunque, siamo pronti a compiere il nostro destino e a unirci al Supremo, a far nascere il vero Super Quarry Rosso da Merciano. Comunque, non mi ricordo di che sei qui. C'è quello che faccio, Piccolo. Cosa? 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 La Forthright Resolve certamente mi dà un po' di speranza. Molto bene. Spreta me questo, Piccolo. È ora veramente il momento per questa fusione. Non dovremmo non osservare la situazione un po' di più. Oh, come on. Quali che stia davanti a noi, ci sarà giverto. È così semplice. Lo vedo. Quindi mi chiede una domanda più domanda. Una volta che si muoviamo, i Dragon Balls saranno perdono. Beh, cosa di te risolvere adesso? le Dragon Balls non sono un problema se io combino come sono ora, sarò morto tu avversi e le Dragon Balls avversi anche sono andati in ogni modo quindi, se abbiamo bisogno di mandare le macchine a la Compactor abbiamo bisogno di prendere un stand ora vedo, la tua ragazza è sound molto bene Piccolo a una carne e una spirito dovremmo tornare sembra che il mio tempo è venuto il tempo per me portare l'assistenza come un warrior invece di un guardia è certo la Terra ha bisogno di più di potere sembra che io sono la persona che portare questo molto bene io farò il corpo a te Kame io farò essere la base God Indeed I will provide you with nothing more than a power boost and my vast knowledge Once on the surface, head to Ginger Town There is a monster there wreaking havoc You'll learn all the other details once we combine as you will have access to everything that I know Got it Grazie per tutto, signor Popo. Farewell, Kami. Sì, non muo. Non sono Kami, non Piccolo. Sono un Namekian che ha scoperto il suo vero nome. Certo, sono fuori. Ok, ora i due superi numeri ci sono uniti. Ho visto che hanno fatto un po' un richiamo a quello che sarà poi l'unione del Goku e Vegeta. Che vedremo che non sono il Goku e il Vegeta. Sono solo un Saiyan pronta di distruggerti. C'è un po' un richiamo a questo che in realtà non dice così piccolo. Comunque l'ha di gettarlo, lì c'è il pericolo più grande. Mi sembra un po' il mister Popo. Per Popo, veramente. Poverino. Supremo, no. Che ricordi. Comunque andiamo qui. Gli ho un po' a chiedere queste minacce. Non posso capire chi sia. Ho detto, cose hanno cambiate, ripeto. La storia l'hanno un po' resa diversa. A volte... Eh, quelle volte va... Può andare anche bene. Anzi, è fatto molto bene. Altre volte cominciamo... Non è stato spiacente. Esatto. Eh, lo vedremo presto. No, non vuole andare giù. Vabbè. Andiamo in realtà, andiamo a scoprire cosa è. Andiamo a vedere chi è questo Andre. Mi sembra vero essere riunitato con la mia altra parte. Ma al stesso tempo... Mi sembra vero. Allora, monstro. Non c'è problema. Beh, l'interno è diversa dalla Fusione dei... Normale che qui la Fusione dei Nameciani... Diciamo, ti dà... Cioè, è un corpo che assorbe l'altro. Quindi... La... È piccolo che ha presso il Supremo, ha presso i poteri. Ha presso i poteri. Ha presso la vera forza iniziale. Ora è molto... Tanto qui... Guardate che due vestiti che... Eccolo lì. ... Ho deciso di vedere il tuo viso, monstro? Ha 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 ha... C'è... C'è qualcosa di che? Di questo... E anche la Vegeta... E i Farisus! Cosa c'è? Oh, non hai bisogno di sapere... Alla che hai bisogno di sapere è che io ti asciugio della mia prima cucina... Demon King Piccolo! Come sai il mio nome? Come ho detto... Non ho bisogno di sapere... No... So... Quindi non parlare, hai? Tu hai lo wronge, Namekian. Scusate di disappointe. Credo o non, credo che mi sono piaciuto che hai riduto la città di tutte le loro residenze. E perché è questo? Perché ora non ho bisogno di guardare. Come, come! Guess I'll do this the hard way! Just have to beat the answers out of you! Hahaha, You're more than welcome to try! Special Beam Cannon! Ok, questo ha la camera manana guidata, primo. Secondo... Vabbè, ovviamente... Questo è normale, forse. Guarda, almeno 6 poteri di picco. Scusate di sapere come sarà diverso picco, comunque ho fatto con... Ma c'è la costruzione che è diverso combattere con lui. Al momento non mi sono provando perché sono al massimo, però... Però figata, al momento. Dai, dai, dai. E vabbè, riscappa questo. Allora, scappa. No! No, no, no! E vabbè. Dammi la vita. Vabbè, vabbè. Non ne credo tanto. Questo è che mi sblocca la formazione del Super Saiyanameciano. Vabbè, la fusione amameciana. Ok. Ah, così è più forte. Però c'è molta energia. È un po' come il Super Saiyan fatto, va. Ho capito. E va bene. Guarda se ora siamo al massimo dancer, come un po'. E vabbè. Ah, poi gli attacchi, come hai detto. Non bisogna messare gli attacchi. E ripartire un colpo di effetto. Perché noi lo sappiamo. E vabbè. Come devi messare? Eh, io vengo a caire i cantando. Buon Ducato. Special BK? Ciao! no just what the hell are you why do you have goku and frieza's energy i suppose i might as well tell you seeing as how you'll be dead soon enough i'm an android you see and you can call me by my name cell dr gero created me in a lab on his computer dr gero again long ago dr gero gathered the genetic material from the strongest fighters in the world to create me the ultimate android but it took too long so he abandoned the projects fortunately his computer picked up where he left off and continued his research cells from goku piccolo vegeta and even frieza and his father were collected when they arrived on this planet using a tiny b-sized spy robot created by dr gero the computer all already has enough cells to begin its research but the process is slow and it will take 24 years to complete impossible we completely destroyed dr gero's laboratory the computer is located in an underground facility deep beneath his laboratory you mean it took you three years after arriving here to go from an egg to that once i revert to an egg i must bury myself underground for three years there my form matures i see one final question i have to know why here why this time period dr gero's computer informed me that my evolution will morph two different life forms before i achieve perfection and those two life forms are androids 17 and 18 what unfortunately despite searching far and wide i had quite a problem locating those pesky androids it seems they were nowhere to be found in my era but in a stroke of luck i learned that trunks had a time machine so i used my magnificent skills and abilities to kill trunks and steal his time machine but why this point in history and trunks had already programmed the time i just pressed a switch and the machine did the rest oh i think i'm getting it now trunks was able to defeat the androids in his future that's not all the computer told me it is said the moment i achieve my perfect form i will acquire a power beyond all comprehension thanks for helping me solve this little mystery but you're not getting that perfect form of yours the glow drunks what's he doing here ah he used the time machine how very clever of him so this is the guy who attacked all those people in ginger town he must be the thing that left the exoskeleton near the time machine you've got that right i'll fill you in on the details later first things first we need to squash this bug now may not be the best time to battle very well but know this androids 17 and 18 will be mine so it's clear no he got away damn i can't get a trace on him one of the huge power levels that showed up out of nowhere is gone now i can't sense it but the other one still remains what what is the meaning of this piccolo talk what the hell happened here tien's apparently on his way here too once he arrives i'll tell you everything tell me one thing first how did you increase your power so much in such a short period of time it looks like he fused with kami that's all it took what is it with all these low lives how dare they attempt to surpass the greatest super saiyan in the universe i can't stand this anymore look what you've done kakarot looks like tn's here good here's what's going on oh i see so to prevent cell from achieving his perfect form we either need to find him and kill him or we need to find androids 17 and 18 and kill them those are our only options if you ask me our best bet is to take cell out before he acquires too much power i'm tired of all these pathetic tactics i say we let them absorb the androids i don't care who i'm up against i will destroy them don't be naive vegeta we could barely handle 17 and 18 ourselves and cells much more powerful than them you dare underestimate my power i'll become stronger i swear i will i will go beyond super saiyan beyond super saiyan hey uh why don't we just go back to the lab and destroy cell before he's finished good idea let's do that at the very least we'll create an alternate future where cell doesn't exist all right krillin and trunks will go on and head back to the lab me and tn will continue searching around here for the time being right well if we come up empty we'll just head back to kami house we can check the news for clues all right let's go trunks thanks go beyond super saiyan is that even possible e vabbè ormai piccola e più forte anche di android per sconfigge ma ma la mia csl è molto forte nell'anima è diverso perchè nella manga dice che si è riuscita del futuro che gli android erano così forti che lui non riusciva a sconfiggere perchè non c'era più vita da risucchiare e sotto le sue potenze era molto inferiore a loro e quindi non aveva da fare niente ma questa fosse fatta meglio perchè parla come trunks non questo ma un altro trunks che è già appena dotato nel passato è andro forte ha i suoi tuoi android e dopo il sesso cosa da uccide per tornare in questo tempo ci piace questo aspetto ma ora ci tocca a noi distruggere il cell di questo tempo e vedere cosa accadrà fra con piccolo vegeta e superare il super saiyan scusate che so che dire se saiyan oppure parlate di piccolo ma comunque vedremo questo tutto nel prossimo episodio quindi invito a lasciare un like a commentare e di la vostra in caso di aver fatto iscrivetevi al canale e a te la campanellina per ricevere le notifiche le domeniche che usciranno e vi ricordo anche se mi su Twitch per fare live e su vari social come Twitter Instagram Facebook così pensate più sul lavoro e da questo ragazzi al prossimo episodio dopo Samy Terry passa a chiudo a chiudo